Permettetemi di ringraziare tutti voi sul palco e tutti davvero voi presenti e di ringraziare Fabio perché credo anche con questa sua disponibilità a rispondere non in maniera superficiale ma profonda alle domande che gli sono state fatte ha dimostrato di dare un grande valore a questa giornata e assolutamente a questo premio. Grazie per essere venuto perché i premi poi assegnati per corrispondenza non sono belli lui è venuto venire a prenderlo e anche un po' a fatica visto i suoi impegni siamo riusciti a organizzare questa giornata anche se un po' in corsa. Grazie per quello che ci ha detto io gli ricordo semplicemente che abbiamo fatto con diversi atleti calciatori qualunque tipo di sport ma anche personaggi dello spettacolo la promozione della nostra città e di questa nostra Liguria con l'hashtag Genova nel cuore per cui se ti capita da ovunque di metterlo ovviamente ci aiuti e contribuiamo a dare quel segnale che giustamente diceva il procuratore di una Genova e di una Liguria che ci sono che reagiscono in vari modi anche con il talento sportivo. Detto questo è un po' sull'onda anche della commozione di prima che credo sia stata molto bella esemplificativa di come lo sport è tante cose è talento è costanza ma è anche poi quello che è intorno a livello di affetti di famiglia e di sostegno. Ti chiedo se puoi dare un messaggio ai giovani che sono in questa sala visto che abbiamo parlato tanto anche di loro ce ne sono di tutte le discipline qualcuno sarà premiato qualcuno no però i giovani che sono qua e che quindi sentono sicuramente lo sport come qualche cosa di importante cosa ti senti di dire? Tu che alcune volte sei un grandissimo esempio in altre magari insomma in campo hai avuto anche qualche atteggiamento ecco proprio per questo te lo chiedo cosa ti senti di dire loro in maniera onesta? Onesta sinceramente funziona sì la cosa che mi hanno insegnato i miei genitori era la scuola io ovviamente sono stato aiutato perché comunque non potendo frequentare la scuola a livello normale non essendoci mai essendo comunque osservato a livello nazionale poi per i vari tornei c'ero sempre meno però ho voluto finire anche comunque grazie all'aiuto loro la scuola avere un diploma perché comunque al giorno d'oggi è molto importante quindi questo penso sia il primo passo lo so che ogni tanto io stesso non ero molto contento di andarci però era una cosa un pilastro principale che i miei genitori ecco mi hanno insegnato ovviamente è giusto nel senso e poi come in tutti gli sport ci vuole tanta disciplina tanta pazienza tanto sacrificio perché senza sacrificio ovviamente non si va da nessuna parte poi ognuno rincorre i propri sogni non è detto che al giorno d'oggi tutti possono diventare i vari Federer perché Federer ce n'è solo uno quindi quando si fa una cosa ecco farla nel migliore dei modi farla al 100% poi ovviamente si hanno anche degli avversari quindi ogni tanto è merito dico io che come ha detto Ilaria sono una testa calda gli avversari giocano contro di noi e vogliono vincere come noi quindi molte volte è merito dell'avversario quindi ripeto tanto sacrificio pazienza umiltà e poi ovviamente lottare tutti i giorni per i propri bisogni senza abbandonarli mai Fabio Fognini sportivo Ligure dell'anno 2018 grazie di cuore grazie Fabio grazie 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 grazie